Questa facciamo draining, alipodraining Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oddio mio, dentro la giungla di ferro, una foglia, c'è una foglia che si è tolta. Boom, non ci ha affatto più la lipo, ammazzata pure questa. Basta, distrutta la lipo ragazzi, mamma mia, dato cazzo e non ce n'era, non ce n'era, con frontale sul pilastro, dove è? Eccolo, bene, bene, bene. Grazie a tutti.